Sì, sto registrando. Già. Sì. Rosanna, il nostro primo lavoro. Amore. Together. Together. Non ha importanza come vede, l'importante è farlo, Rosanna. Eh sì, però cerca di farlo anche bene, non lasciare le mani vicino. Croce e scroce, va a capire? Ah, bravo. Chi te l'ha detto di fare croce e scroce? Giovanni. Quanto sei farabutto? Chi te l'ha detto? Giovanni. No. Ma no mio fratello, Giovannino il pittore. No, chi te l'ha detto? Giovanni. Te l'ho detto io, bugiardo. Giovanni me l'ha detto. Dai, che questo è il nostro primo lite. Su questo, ma bene, quando lì non mi ha fatto fare questo cazzo da mare? Beh, senza scarpe si pitta. Sì. Se ti cade il pennello sul piede, sul ditone, sul callo, anzi, sul callo, eh? Non ce l'hai tu il callo, i tuoi piedi meravigliosi. Beh, basta così.